Festa delle scuole in bici, questa è la manifestazione di questa mattina qui a Pescara, a Villa de Risis, manifestazione organizzata dalla FIAB, dal comune di Pescara e dall'ufficio scolastico regionale. I bambini vogliono andare a scuola in bicicletta o a piedi e ce l'hanno richiesto a gran voce. La domanda era ma come si fa andare a scuola a piedi in bicicletta sempre, tutti i giorni e non solo il giorno del pedibus, perché alcune scuole hanno sperimentato il pedibus, scuole elementari. Andare con il pedibus vuol dire giocare e quindi è come se iniziasse la scuola col sorriso, con un momento di gioia e di condivisione. Io volevo ricordare che in Abruzzo c'è il più alto tasso di crescita dell'obesità infantile in Italia, cioè i ragazzi devono andare a scuola a piedi e loro lo chiedono, quindi noi non vogliamo più vedere questi SUV che accompagnano i figli fino davanti all'ingresso della scuola. Ma a Pescara molti si chiedono, è una città a prova di bici? Attualmente no, ma bastano pochi accorgimenti per renderla tale. Città come Amsterdam e Copenhagen non erano città come le vedete adesso, ma erano città come Pescara, cioè trafficatissime. E hanno cominciato a richiedere in gran voce come stanno facendo i pescaresi le piste ciclabili, hanno trasformato le strade e come le hanno trasformate? In un modo molto semplice, togliendo i parcheggi ai lati delle strade, spostando i parcheggi nelle strade laterali e facendo al posto dei parcheggi normali e in doppia fila, che non si sopportano più a Pescara, delle piste ciclabili. Poi più ci sono le piste ciclabili, più la gente va in bicicletta e meno macchine ci sono.